Ho pensato a quello che è il mio approccio durante una visita al museo, comunque durante la visita a qualsiasi luogo della cultura. Quindi il mio approccio è sempre quello, a causa di una deformazione professionale che mi vede fare valutazioni purtroppo non poetiche e romantiche come quelle che possono essere appunto quelle di un archeologo ma purtroppo di un economista. Quindi sono troppo pragmatico, infatti si vedrà dal video. Il problema legato alla composizione del video che ho riscontrato è quello di far coincidere la lunghezza delle frasi con lo scorrimento delle immagini. Chiaramente i tempi mentali sono molto diversi da quelli del parlato e quindi sicuramente dovrò rincorrere qualche immagine o rallentare su altre. Odio e tamo è la frase che me lo riassume il mio rapporto con la cultura. Che ci sarebbero stati dei problemi con la cultura avrei già dovuto capirlo nel 2008. Unica studentessa iscritta al corso sulla gestione culturale e da quel momento in poi il mio viaggio solitario da economista anomala ha iniziato. Il fatto è che ormai non riesco a pensare alla cultura se non nella sua accezione aziendale. Questa deformazione mi porta a non godere mai fino in fondo della fruizione. Una mia visita al museo per esempio non sarà mai guidata dal puro diletto, dal relax. Mille domande mi assalgono ogni volta. Quali servizi offre questo museo? A che prezzo? Numero di ingressi per costo di biglietto? Da dove prenderai i soldi? Sicuramente non dai privati. E lo Stato? Lo Stato non finanzia. Ah se in Italia ci fosse il modello anglosassone? Ah il British. E anche se alla fine della visita alcune opere non le avrò proprio viste. Tutta questa curiosità mi rende sempre felice. È come quando all'inizio di una storia d'amore non ne ha mai abbastanza di conoscere l'altro. Poi però a un certo punto arriva la frustrazione, la delusione, l'amarezza. La frustrazione di non essere riuscita a trasmettere agli altri l'importanza della cultura e della sua sostenibilità. La delusione negli occhi dei miei che ancora non hanno ben capito cosa voglio fare da grande. L'amarezza per non essere riuscita neanche oggi a mangiarci con la cultura. Ma essendo una persona positiva non demordo. E mi consolo pensando che in fondo allo stato attuale delle cose ho ancora una trentina di anni per diventare il nuovo ministro dei beni culturali. e resettare il sistema dell'interno. E' resettare il sistema dell'interno. Scusate che ho proprio mai... Che è una domanda. Molto bene. Niente, era solo leggera e mi piaceva anche delle immagini che avevo scompiuto. Beh, però era carinissima. E poi soprattutto una voce fuori dal coro, insomma, no? Un po' effettivamente un po' meno poetica, un po' meno, anche se volete, emozionata di fronte a certe bellezze, ma molto pragmatica, sì, giustamente. No, bello, carino. Sì, quello che dicevi della voce che rincorre le foto, questo è chiaramente uno dei... Anzi, direi il problema poi quando si va a montarlo, perché devi allungare... O aumenti la sequenza e il numero di foto, oppure devi allungare i tempi magari di dissolvenza di una foto prima che cominci l'altra per dare il tempo alla voce di seguire quel passo. Quindi, vabbè, questa è una delle difficoltà, ma insomma, poi si... Il testo... bene, molto brava, carino. Vai, vai, ti do il microfono. Allora, io ho provato ad essere pragmatica a partire da quello che avevo, quindi mi sono guardata un attimo le foto che c'avevo, sono andata sul mio profilo Facebook e mi ha colpito la mia copertina, c'è la tua copertina, la conoscerai, brava, che è la prima immagine, adesso la vediamo, comunque è una delle locandine del Festival di Lampedusa, quella che ho scelto io e che ho messo sul mio profilo, parte con Lampedusa e insegna da mare. E quindi poi ho deciso di sviluppare un discorso sull'esperienza avuta l'anno scorso al Festival e su come ha cambiato in qualche modo il mio rapporto con la cultura e la mia concezione della cultura. Allora, io adesso che devo guardare però il testo, le foto, tutte e due... Vabbè, in un mondo ideale il testo sarebbe registrato... Allora, già che le foto le ho messe in ordine... Ma vado così e invece di non dare un presentatore... Puoi anche parlare e liberarti di questo. Questo si sente? Sì. Perfetto. Io sento, ma non entra nelle case. Vabbè, tanto qua mi sentite. Vado. Lampedusa insegna da mare, ma a che c'entra l'amore con la cultura? La scorsa estate ho avuto modo di partecipare al Festival del Cinema di Lampedusa. Un festival ricco di eventi e di scambi, mostre, dibattiti, proiezioni e concerti. Il Lampedusa in Festival è prima di tutto un atto di narrazione collettivo. Un luogo dove costruire, raccontare, ma anche divertirsi insieme. Uno spazio dove non siamo bianchi o neri, italiani o stranieri, ma semplicemente siamo tutti persone. Ognuno col suo vissuto e la voglia di condividerlo. Per poi raccogliere tutti insieme i frutti di un percorso ricco di emozioni e riflessioni. Al momento di lasciare l'isola siamo un po' tristi, certo, ma anche arricchiti. E abbiamo imparato qualcosa in più su che cos'è la cultura. Cultura è avere qualcosa da raccontare e qualcuno pronto ad ascoltarla. Significa condividere esperienze e rifletterci insieme, mettersi in gioco mentalmente, emotivamente e fisicamente. Insomma è un atto di condivisione profonda, scambio di saperi e di vissuti. Un viaggio, che sia reale o metaforico, che ti tocca e che ti cambia dentro. Ecco perché a Lampedusa ho imparato ad amare e a vedere la cultura come un profondo atto d'amore. E qui invece abbiamo il rionfo della poesia, nel senso che sarai pure partita dalle foto che avevi, però insomma era molto poetico, quindi sì, pragmatica nel senso che... Provata il senso che avevi... Esatto, sei partita dai materiali che avevi, però diciamo che ti sei lanciata... No, comunque anche questo è molto bello, un bel racconto. Poi le foto erano chiaramente tarate sul racconto, quindi vedete che il raccontone guadagna tanto con le immagini giuste, ovviamente, no? È una sottolineatura forte del racconto stesso. Adesso, allora facciamo andare Andrea e poi dopo così cambiamo il cavo per te. Sì, scusate, niente. Vediamo se funziona il video. Sì, scusate, niente. Se non compri con la vita lo state da niente o al comune. Sì, scusate. Allora... Ok... Ok... No, prima c'è un dato. Ce l'ho messo. No, 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 va, 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 ecco. Sì, sì. Io prendo qua questi sminotti, non mi permette... No, forse è dietro. no? No, è questo. E che è ultrasottile. E quindi... Andiamo... Ecco. E no, perché... Allora, aspetta un attimo, eh. Eccoci. Ok, ci siamo. Che non voglio forzare. Allora... Eh... Sì. Internet... Aspetta, io ti chiamo qui. Non ti prendo. Ok. Ti chiamo? Sì. 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 No, non è mio. È... È... È per uscim. È per uscimè. Sì. No, no, ma va, va, va. No, per uscimè, dai. Ti chiamo la ossia. Ah, dai. Sì. Eh, ecco, ecco. No. Scusami, eh. No, figurate. Ti sto complicando la vita. Prendo questo, altrimenti non funziona. Scusatemi, vai, ah. Sembra la desiderava, scusatemi, eh. Ma la tecologia, no? Ti chiamo. Non mi compie... No, lei che mi sottovalutate, no? No, aspetta, eh. Scusatemi, eh. Scusatemi, eh. Scusatemi, eh. Scusatemi, eh. Scusatemi, eh. Non mi compie, non mi sottovalutate, no? Si deve restare anche. C'è un problema che si è inattato. Ci sono state venite a venire a dormire Erickon, esatto. No, 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 no. mi fai le cose che non devi mi manca un punto di troppo no mi metti sempre un punto non so come lo fai a toglierlo non lo so non mi rimane sempre visto là ecco grazie 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 allora tutto è cominciato quattro anni fa quando mi piacere di conoscerli praticamente babba la nostra amica che praticamente da lì mi portò durante il tirocinio della provincia di Lecce a farmi conoscere le miglia di loro a questo tempo come era una stagione nata da poco e io praticamente mi piacere di riconoscerli e mi convolse come il vento ho preso un riferimento madonna mi ha trovato le foto togliamo le foto sì eh sì ma eccole qua e praticamente parlando con la Elena ho preso spunto dalle foto da notte bianca perché questo perché quando è il piacere di entrare a far parte di questa compagnia sono stati in prima ad essere dei ragazzi socioli e perciò ho detto quasi quasi da concludere a queste foto e praticamente abbiamo ecco ecco un esempio sono foto della signorina e ho preso i diritti da la nostra presidente e beh e questa è la mia foto con la prima presidentessa Elena Spinelli con cui abbiamo collaborato e poi da lì abbiamo collaborato insieme ad altri convegni altri eventi e sono stato convolto a questi eventi grazie a loro abbastanza sì grazie Grazie. Allora, anche io ho un po' riflettuto sulla definizione che ho dato ieri di cultura, quindi un po' l'idea della suggestione e della sorpresa. Quindi per me la cultura, diciamo, queste sono, potremmo definirle le parole chiave, suggestione, sorpresa e quindi anche un po' la riflessione che c'è dopo il sorprendersi, il meravigliarsi. La difficoltà è stata nella tempistica, indubbiamente, e poi devo dire che non ho seguito con precisione le indicazioni, diciamo, metodologiche, perché sono partite in realtà dalle foto. Cioè ho pensato alle foto che avevo, che poi però in realtà sono foto che ho fatto io, quindi in qualche modo ho pensato potessero essere adatte. Perché è stata una soluzione di grado, diciamo, ma comunque è amissibile, non ho pensato che se la foto non può esagerire, non è una storia. Sì, mi sembrava, cioè mi veniva più immediato. Allora, dunque, la cultura a me fa pensare alla coltivazione di un terreno. Amo lavorare il mio fazzoletto di terra e scoprire che spesso le erbacce non sono tali, ma che rivelano un inaspettato fascino, come dice Gilles Clemente. E poi, che bella la soddisfazione del cavolo. Così mi conduco ad un laboratorio per approfondire lo storytelling e, tra le altre, mi accorgo, ecco, allora no, mi accorgo che le associazioni sono il tessuto vitale del Salento. Naturalmente qui non vi ho chiesto il copyright, però non diffonderò. Mi trascino ad un festival del cinema e scopro che l'immediatezza dei documentari saltella nella mia testa come una pallina da ping pong, altro che soporifere visioni. Mi catapulto giù dal letto alle otto di mattina di un giorno di festa per partecipare ad un'escursione. Mi catapulto giù dal letto alle otto di mattina di un giorno di festa per partecipare ad un'escursione. e scoprire che luoghi calpestati dalle ruote della mia automobile per decine d'anni rivelano, se percorsi in bici o a piedi, sorpresi inaspettate. Cioè, vi giuro, questa bancarella messa su un binario, nonché come un allevamento di cinghiali in un'ex cava nel cuore del Salento. Anche quella c'era, nel Sud Salento vicino Santa Maria di Leuca. Impegno il mio tempo libero da pigra cronica, devota al divano e agli adorabili cuscini, in un viaggio di diverse ore per lasciarmi affascinare da un foro in una cupola che mi attrae incredibilmente come la prima volta. Insomma, coltivo me stessa, dove io sono il terreno e il contadino. Questa pure è buona, brava, brava, è l'altro, ma con quello che avevamo? Eh, sì, insomma, è un po' così. Direi un ottimo lavoro. Adesso io tolgo così. Possiamo rimettere l'altro, ma tanto... Sì, volevo farvi vedere, ma lo facciamo dopo, se abbiamo tempo. Ho trovato dei tutorial di altri programmi al di là di Sony Vegas, che sono anche in italiano, oltre che in inglese. Quindi magari dopo, se abbiamo tempo, facciamo un giro su uno di questi programmi, col suo tutorial, tanto per farvi vedere come si fa, al di là del fatto che poi ci sono tra voi persone che già lo sanno fare, però magari può essere utile vederli un attimo. Giunti a questo punto, io vi passerei la parola nel senso che vorrei capire da voi, secondo voi, che ci si può fare con tutto ciò. Cioè, al di là di quello che ci sto facendo io e i miei partner del progetto europeo sui musei, che come vi ho detto è comunque un'attività di tipo assolutamente sperimentale, che stiamo provando a valutare anche. Quindi, diciamo, una volta terminata la valutazione avremo qualche dato in più sul risultato. È chiaro che già così a naso, come vi ho detto ieri, ci sono degli elementi sicuramente positivi. Non so dire se poi questo strumento funziona con tutti i tipi di pubblico, non so dire quanto diversamente funzioni rispetto ad altre attività laboratoriali, non lo so ancora quantificare. Soprattutto sul discorso che si faceva ieri, mi sembrava chiara che diceva come poi le istituzioni possono utilizzare i risultati di queste cose. Direi nello stesso modo in cui utilizzano o non utilizzano tutti gli altri risultati. Nel senso che da quel punto di vista è esattamente come qualsiasi laboratorio, visita guidata, percorso per pubblici particolari o normodotati o classici, tradizionali, quello che volete. Cioè se l'istituzione poi ne vuole tenere conto, ne tiene conto. Non è che lo strumento in quanto tale faccia cambiare. L'unico aspetto, come ti dicevo ieri, che io vedo di diverso rispetto ad altre attività di educazione museale, diciamo così, di comunicazione museale, è il fatto che il prodotto finale è questo video. Questo in qualche maniera solletica, come ti dicevo, i vertici dell'istituzione, in questo caso del museo, perché si sentono molto fichi a produrre, a mettere poi in rete o sul loro sito un prodotto come questo che mostrerà storie e racconti di persone che tradizionalmente non visitano i musei. Quindi è un modo per comunicare qualcosa di diverso in una maniera che non è così usuale appunto per i musei. Quindi sono solleticati dall'originalità del prodotto finale. Quanto poi terranno conto dei risultati? Non lo so, nel senso che probabilmente ne terranno conto nello stesso modo in cui hanno tenuto conto degli ultimi cinque anni di laboratori fatti nelle periferie, eccetera, eccetera. Cioè non è lo strumento che può cambiare la percezione poi che ne ha l'istituzione, diciamo, del risultato che sottiene. È uno degli strumenti. Se i risultati saranno migliori di altri strumenti magari potrà avere un impatto più decisivo, ma alla fine non credo che sarà quello il risultato eclatante che si otterrà. Perché poi appunto lì dipende dalla predisposizione che ci deve già essere a monte di voler ascoltare e di voler analizzare i risultati in un certo modo. Dal punto di vista di chi fa comunicazione e didattica museale invece è tutto un altro discorso. Ovviamente i risultati saranno valutati molto più attentamente e si tratterà di capire se è uno strumento che può avere un futuro nell'ambito della comunicazione e della didattica museale. Non ho una risposta. Secondo me per alcuni tipi di pubblico sì, per altri forse il gioco non vale la candela, ma non lo so ancora con certezza. Dobbiamo aspettare di vedere cosa succede alla fine del processo. Però così è una idea che mi sono fatta dopo questi primi mesi. Vorrei capire da voi a questo punto quali sono le idee che vi vengono rispetto a questo strumento, che suggestioni, sollecitazioni, pensieri, idee folli, cose più concrete vi ha stimolato, diciamo, fatto venire in mente. Loro sono arrivate stamattina, quindi lasciamogli un altro po' di tempo per far decantare le idee. Cominciamo da questa parte che invece era presa. Anche due sono qua. Sì, 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 certo. Comunque c'è sempre poi una ragionalità, una statistica, qualcosa per togliere poi da quel dato qualcosa che non possa condurre a una strategia. Sì. Cioè, da questo che abbiamo sperimentato, da questo ridente, per quanto riguarda i giorni due, per quanto riguarda i giorni unici, per i giorni, 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 poi si fa. Allora... C'è una strategia anche in queste cose, per arrivare poi a togliere fuori una politica, una strategia, per i giorni, per i giorni, per i giorni, per i giorni, quando il conto è in cui si produce così... Impalpabile per certi versi. Allora, il problema è esattamente questo. Cioè, il motivo per cui ci siamo imbarcate in questa avventura è perché io e questa collega del Museo di Zoologia sono dieci anni che lavoriamo su indicatori qualitativi di valutazione di impatto sociale. Quindi, togliendoci, diciamo, dalla testa l'idea che ci debbano essere per forza, o che comunque anche gli indicatori qualitativi debbano confluire in un qualcosa di quantitativamente misurabile. Questo perché? Perché è l'esperienza che ha detto a me e a lei in contesti completamente diversi, nel mio caso faccio riferimento ovviamente all'esperienza di Re Bibbia, lei fa riferimento alle esperienze con le periferie romane, che in realtà tu questo impatto, questo cambiamento nelle persone, lo percepisci, lo senti, lo tocchi quasi, però non sai come chiamarlo, né come misurarlo. Allora, dopo esserci cervellate per anni su come misurarlo, come chiamarlo, non solo noi, nel senso che ci sono fior di ricercatori al mondo che fanno questo tipo di studi, dopo esserci confrontate per tanti anni anche con le nuove metodologie in questo senso, alla fine lei un giorno mi ha chiamato in ufficio, mi ha detto, senti, ma perché? Ma basta. Anche gli aneddoti, anche la frase buttata lì del tipo sono una persona migliore grazie a voi, grazie a quello che sto facendo, anche questo è un elemento di valutazione e dobbiamo riuscire a farlo entrare nella testa di chi poi fa politica. Che non possiamo cercare di ridurre una frase del genere a un dato quantitativo, perché è impossibile, perché i numeri sono quelli che sono e perché poi non lo puoi misurare. Sono aneddoti, sono sensazioni, sono osservazioni che tu fai, per cui lei poi ha cominciato a usare le fotografie e l'osservazione diretta delle persone durante le attività e vedi che cominciano a interagire, che cominciano a parlare, che cominciano a fare domande, partendo da un punto che era invece un punto zero di totale disinteresse. Dopodiché tu non riesci ovviamente a dare un numero, se non quante persone c'erano, non riesci a dare delle dimostrazioni quantitative. Fino a un certo punto lo puoi fare, puoi dire c'erano 20 persone, sono tornate sette volte. D'accordo? Però questo non esaurisce minimamente tutto quello che c'è dietro. Allora questo strumento va in questa direzione, cioè nel dare voce e corpo a sensazioni personali che sono sicuramente parte del mondo della valutazione qualitativa e non quantitativa, che da sole probabilmente non bastano, perché poi un decisore pubblico probabilmente non se le fa bastare, ma che magari messe insieme ad altri strumenti possono far capire che c'è una zona di grigio, diciamo così, che non è né bianca né nera e sulla quale tu hai difficoltà a intervenire con la testa e la mentalità alla quale siamo abituati noi e che non per questo però non deve essere presa in considerazione. Quindi lo sforzo che stiamo facendo insieme in questo progetto è anche quello di mettere nero su bianco una sorta di strategia di valutazione di queste cose, che ovviamente è complicato perché se pensi alla valutazione tu pensi a parametri quasi sempre quantitativi ed è molto difficile riuscire a ridurre poi tutto ad unità, diciamo, da questo punto di vista. Eppure sono, ma l'avrete sperimentato anche voi, cioè ci sono dei momenti in cui tu hai la certezza di essere riuscita a ottenere qualcosa con quelle persone, ma su cosa ti basi? Su una tua sensazione? Ma sai che è vera, no? Quindi poi qui entriamo in una discussione, se volete, di tipo filosofico di che cosa è reale o di che cosa non lo è. Però non c'è niente da fare, cioè in questo tipo di attività conta moltissimo anche questa percezione. Nei miei tre anni a Re Bibbia non potevo, parlavo di 20 persone, quindi il numero non aveva senso. Le ore di lezione? Certo, io alla fine ho fatto una valutazione anche ore di lezione, argomenti trattati, gli abbiamo fatto fare un piccolo esame alla fine del corso a Re Bibbia, se l'avevano passato o non passato, con che valutazione, se erano attenti, ho provato a fare una valutazione tipo scolastico, anche sul comportamento, l'interazione tra di loro, ma poi alla fine era molto di più di questo e molto più impalpabile di questo, tant'è vero che ho fatto un diario, alla fine io ho raccolto in un diario di bordo tutti i loro commenti, le frasi, le riflessioni, i pensieri, e quando vado a rileggermi quel rapporto di valutazione, l'unica cosa che si avvicina a quello che io so di aver provato, sentito, quasi toccato con mano è proprio il diario di bordo, molto di più di tutte le altre interviste, questionari, valutazioni dell'apprendimento, eccetera, eccetera. Quindi a quel punto poi uno sa, non ti puoi basare solo sul diario di bordo, però lo puoi usare, come insegna in fondo anche la ricerca sociale, più strumenti utilizzi e più riesci ad avere un quadro completo. Allora, la nostra idea è che in questo caso, cioè lavorando con questi tipi di utenze, devi comunque privilegiare gli aspetti qualitativi rispetto a quelli quantitativi, dopodiché cerchi di mettere tutto insieme e di produrre una valutazione solida che però tenga anche in considerazione questi aspetti. È chiaro che uno strumento come questo diventa uno strumento di valutazione perché poi dà un'espressione personale. Alla fine, che cosa il tuo visitatore pensa del tuo museo? In questo caso, il museo della scienza chiede che percezione avete della scienza? Com'è il vostro rapporto col museo della scienza? Verranno fuori aneddoti, non verranno fuori trattati approfonditi, ma da questo tu ricavi degli elementi per capire che cosa c'è, come funziona il rapporto tra il museo e quella persona? Non so se t'ho risposto, ecco, diciamo che questa è la linea di ricerca in cui siamo in questo momento immerse. anche se con strumenti completamente diversi può essere la stessa strategia che ha adottato il MoMA con il muro dei post-it, no? I went to MoMA and e che hai fatto e racconti in qualche parola l'esperienza al MoMA e poi da quello che è uscito questa mattina dal racconto in realtà anche in un campione così piccolo parlando in termini numerici è uscita quella che è la realtà italiana per esempio, no? Quindi il problema della disoccupazione, il problema dell'università quindi in maniera rappresentativa anche un problema legato alla fruizione culturale può emergere. è verissimo se ci pensate qui oggi eravamo quattro, quindici ma tra ieri e oggi in totale per una ventina di persone quante volte abbiamo avuto una sorta di ricorrenza di certi temi parole, temi sensazioni più o meno positive direi qualsiasi anche negativi insomma rappresentative molto rappresentative però che c'è di una realtà che tutti sappiamo essere quella, no? Allora tu in questo caso tocchi un mano che anche il singolo individuo in realtà fa parte di questo di questa grande famiglia di numeri quindi poi riesce qualche modo a combinarle con questo mi sembra un'ottima osservazione Ci sono altre domande su questo? No, un'osservazione su questa cosa insomma che lei citava il muro dei post-it no? Lei prima ci diceva invece l'istituzione magari si fa un po' si sente un po' cool mettendo i video su internet eccetera però al di là della pubblicità è effettivamente cioè vedere altre persone che ti raccontano vederle proprio leggere quello che hanno scritto cioè suscita una risposta emotiva comunque nelle persone quindi al di là c'è uno strumento di promozione in questo senso alla fine quindi insomma giusto e di solito appunto va più in là poi questa idea di promozione del semplice essere cool come dici tu no certo no però te lo dico perché molte volte la risposta poi anzi nello specifico è stata sì vabbè ma alla fine che cosa c'è? Ah alla fine c'è un video con le persone ah carino il video lo mettiamo sul nostro sito così si vedono le persone che raccontano ecco vabbè questo viene colto e va bene anche questo per carità però in realtà anche solo dal punto di vista della promozione è molto più di questo certo sono d'accordo no io pensavo soprattutto all'utilizzo che si può fare di questo strumento e mi venivano un po' di idee allora per esempio pensavo alla possibilità di utilizzare lo storytelling nel caso di organizzazione di eventi nel senso molto spesso gli eventi vengono promossi c'è l'evento e finisce lì la storia invece per esempio utilizzare questo strumento per conoscere le reazioni il modo in cui ha partecipato il pubblico e quindi avere anche un post evento che possa in un certo senso non far terminare la cosa lì ma dargli una continuità ed eventualmente riproporlo che ne so io pensavo a invasioni digitali l'evento che c'è stato anche come stimolo per riproporre l'evento l'anno prossimo quindi poteva essere un modo per capire le reazioni del pubblico di fronte ad un'iniziativa organizzata una continuità proprio perché spesso insomma rimangono cose chiuse in se stesse che non hanno un dopo invece sarebbe interessante proprio in ragione di fare rete di comunicare di coinvolgere tutti coloro che fruiscono soprattutto insomma in Italia ci sono tantissimi eventi e quindi magari focalizzare l'attenzione e ripeto avere un post evento che possa essere uno stimolo anche per per continuare oppure per esempio pensavo alla possibilità di integrare vari linguaggi quindi non soltanto il linguaggio fotografico il linguaggio video per esempio le accennavo coinvolgendo filmmakers anche di un certo livello per esempio che potrebbero accompagnare il racconto con delle riprese insomma farlo diventare uno strumento di di promozione di promozione appunto di marketing non soltanto di di marketing però che abbia la base ripeto sensazioni emozioni mettere al centro sì le persone e anche altri linguaggi per esempio il linguaggio pittorico associare io sono un artista racconto la mia storia e nel frattempo c'è una galleria delle mie opere per esempio anche nelle carceri credo ci siano attività di questo tipo e quindi far procedere varie insomma diciamo arrivare anche appunto ad un'integrazione di linguaggi non soltanto quello della fotografia o della parola ma anche allargarsi a vari tipi di interazioni sì io su questo ho soltanto alcune perplessità allora sul discorso dei linguaggi c'era una storia molto bella fatta da un collega durante quell'attività formativa in Turchia tutta a fumetti disegnati da lui quindi non c'era nessuna fotografia solo fumetti lui era bravo a disegnare quindi si è creato il fumetto allora la prima obiezione è questa quando tu dicevi coinvolgere dei bravi filmmakers perfetto però allora non è più il tuo prodotto cioè qui bisogna come dire capirsi su cosa vogliamo ottenere se il prodotto deve essere interamente personale allora non ha senso dire coinvolgo un artista per farne una parte e poi tu invece sotto racconti la tua storia altrimenti si può decidere di fare certo però diventa un'altra cosa cioè in qualche modo ne cambi diciamo la natura perché invece qui nasce come forma di espressione personale a 360 gradi quindi tu ti scrivi la storia tu decidi che immagini che foto che video che disegni anche se non sono tutti tuoi per esempio in Inghilterra quando c'è stato quel progettone della BBC sconsigliavano l'uso di video e foto non proprie invece spingevano a esatto a una produzione propria proprio perché è un atto di creatività personale dopodiché se c'è una foto che non è tua va bene lo stesso però in linea di massima il prodotto deve essere tuo così come è stato concepito perché ripeto è stato concepito come una forma di espressione personale poi nulla vieta che uno crei delle forme ibride però ecco nella chiarezza diciamo che stiamo parlando di un'altra cosa sul discorso che dicevi tu dei festival a me è venuto in mente il suo per esempio lei ha fatto esattamente questo non post festival di Lampedusa se vuoi il problema qual è anche lì dipende sia quali sono gli obiettivi sia come lo strutturi questo lavoro perché se tu lo immagini come una raccolta di pensieri sensazioni di persone che hanno partecipato sotto forma di intervista è un conto se immagini di far fare alle persone un percorso del genere devi comunque avere un gruppo di persone definito stabilito fissato le devi seguire per un periodo di tempo che siano 15 giorni un mese non lo so poi dipende chiaramente in questo caso non parliamo di persone con particolari problemi quindi può essere anche una cosa più breve ci deve essere appunto un'attività di laboratorio che segue determinate fasi quindi diventa una cosa diciamo un po' più complessa e va bene va benissimo ecco però deve essere appunto ben chiaro che non si tratta di raccogliere semplicemente delle interviste dei pareri ma si tratta di fare un lavoro strutturato però mi sembra anche un'idea molto interessante perché poi comunque potrebbe a proposito di valutazione potrebbe comunque diventare uno strumento per poi magari ritarare il festival successivo cioè nel senso che a quel punto a seconda anche dei commenti che raccogli potrebbero venirti delle suggestioni delle idee per modificare qualcosa e allora però lì si crea un altro problema come lo scegli il campione di persone che partecipano a questo workshop perché se lo scegli omogeneo otterrai delle risposte più o meno omogenee come è successo a noi in questi due giorni voi vivete situazioni molto simili guarda caso abbiamo avuto queste ricorrenze di università lavoro eccetera eccetera allora se vuoi invece avere una risposta più possibile aderente alla realtà dovresti scegliere persone rappresentative delle varie tipologie di pubblico che ha frequentato il festival o che non lo ha frequentato anche per capire perché non lo hai frequentato qual è il tuo rapporto col festival che ne pensi però allora lì c'è da fare tutto un lavoro a monte di selezione anche del gruppo perché se no rischi di trovare tutte persone come lei che sono entusiaste e gli è piaciuto tanto hanno vissuto un'esperienza meravigliosa e ottieni delle risposte omogenee a quel punto e allora vale come strumento espressivo ma non vale poi per una valutazione quindi insomma bisogna studiare bene a monte non riesco più a parlare però sì sono d'accordo con te che potrebbe essere usato in questo senso tu invece stamattina parlavi dell'archeologia l'archeologia è un'altra nota dominante diciamo di questa due giorni assolutamente tutti disoccupati tutti archeologi infatti diciamo e quindi lei diceva ma per l'archeologia che potremmo fare no vabbè io in realtà diciamo stavo pensando ad un discorso di utilizzazione per quanto riguarda il discorso degli ecomusei dove comunque insomma si parla di partecipazione in quel caso partecipazione delle comunità nella insomma costituzione degli ecomusei e quindi ho pensato quale miglior modo magari di unire insomma questo nuovo cioè questo strumento che io sinceramente fino ad oggi a stamattina non conoscevo e quindi insomma però subito l'ho collegato come discorso insomma di anche insomma esperenziale eccetera eccetera un discorso ecomuseale quindi dove si vanno a costituire poi in realtà queste mappe di comunità perché poi il senso ultimo è quello quindi dove la comunità poi si esprime in questa mappa in cui si deve riconoscere e magari uno strumento ulteriore per insomma far esprimere la comunità potrebbe essere un insomma un laboratorio in questo senso anche se lì effettivamente oggi eravamo in 15-20 però se si vuole pensare poi un discorso più ampio bisogna capire i modi per un discorso più ampio funziona il fatto di dire faccio delle interviste faccio dei focus group a quel punto magari vai meno in profondità però ottieni più risposte qui è un discorso che devi fare con un gruppo tutto sommato ristretto di persone con un tempo più lungo rispetto agli altri casi e poi c'è sempre questa doppia natura che per te è uno strumento di indagine a quel punto però c'è la valenza della espressione e della creatività personale che è altrettanto se non più importante quindi ovviamente bisogna tenere presente che in primo luogo è quello è uno strumento per esprimersi poi può diventare strumento di valutazione di valutazione però sì di valutazione sicuramente però io pensavo proprio a un discorso di espressione della comunità cioè nel senso che invece di pensare al museo che in realtà gli è posto dall'alto se lo ritrova lì e perché comunque se lo ritrova in quel caso un discorso di ecomuseo nasce da un riconoscimento della popolazione della cittadinanza in quel determinato territorio eccetera quindi magari la cittadinanza si può esprimere in questo in questo modo però effettivamente bisogna capire poi come strutturare bene il laboratorio e in base a che cosa magari scegliere le persone che devono poi partecipare insomma al laboratorio stesso però ci sto pensando ho visto che ha iniziato stamattina ha iniziato le frullavano per la testa un sacco di idee e ha cominciato a rifletterci su invece di qua ecco Chiara vai vai aspetta che Chiara ha alzato la manina in realtà questa cosa un po' cioè si sposa e adesso magari la ricalibriamo vediamo con un nostro progetto uno dei progetti inclusi nel progetto più grande per i musei della provincia un nostro museo che dovrebbe essere partner ha all'interno di un museo preistorico una sala etnografica con una collezione donata da uno studioso con vari oggetti provenienti da diversi paesi dell'Africa quindi diviso per nazioni e raccontano appunto le storie legate a questi oggetti riguardo a non lo so riti religioni idoli eccetera eccetera e quindi già la nostra idea nella divisione diciamo delle dei nuovi pubblici da stimolare per ogni museo in rapporto alla collezione alla peculiarità del museo stesso per questo museo avevamo già pensato a un discorso appunto di progetto per per le altre comunità che abitano nel nostro territorio allora avevamo un po' pensato più che altro a un discorso di un laboratorio di teatro in cui con rappresentanti delle stesse comunità rappresentate dalla collezione un laboratorio di teatro quindi dei tempi diciamo lunghi come per un laboratorio di storytelling in cui raccontare la storia degli oggetti attraverso in realtà le storie delle persone che abitano nel nostro territorio con tutto il vissuto che si portano dietro e quindi in un certo senso per dare un senso alla collezione anche che magari all'interno di un museo preistorico rimane un po' legarla al territorio e farlo diventare un momento appunto inclusivo e di legame tra la popolazione locale e una popolazione altri tipi di comunità e quindi puoi organizzare degli spettacoli in cui la collezione non viene vissuta attraverso la lettura di un'etichetta ma attraverso la rappresentazione delle vite delle persone legate a quell'oggetto quindi questa cosa dello storytelling magari può essere pure non lo so applicata piuttosto che il teatro lo storytelling oppure sì il teatro però poi applicando tutta una serie di giochini che abbiamo sperimentato per tirare fuori in realtà le storie delle persone da poi tetralizzare piuttosto che fare il video oppure il video secondo la metodologia del digital storytelling però che ne so apposto che con le foto con le persone che recitano e la rappresentazione dei vari oggetti cioè una luce tipo puntata sui vari oggetti esposti nella collezione che sostituiscono le foto non lo so che non perché ancora il progetto deve iniziare deve partire ma per cui il museo il museo si dovrebbe essere il nostro fatto il museo ha già installato un rapporto con le comunità di comunità di comunità in questo senso che io sappia no anche perché questa collezione questa sale è abbastanza diciamo nuova è recente rispetto alla nuova invece sistemazione sempre nuova sistemazione del museo però la sale è ancora interessante e ovviamente non ci sono tra i visitatori membri di comunità straniera diciamo no anche infatti sì è un discorso anche magari cioè non ci sono e magari non vorranno neanche partecipare perché non lo so noi non lo sappiamo ma probabilmente un oggetto o quel tipo di esposizione magari per un motivo X può anche magari impendere quella della comunità lo sappiamo cioè magari quell'oggetto rappresenta qualcosa che quella comunità può non far giacere sì sicuramente la musealizzazione degli oggetti crea comunque problemi diversi dalla nostra proprio per un ciclio al di là del tema della musealizzazione dei resti umani che in alcune le vitture non è accettate per esempio ma anche degli oggetti da oggetti rituali ad esempio non vengono apprezzati se musealizzati dalle comunità che poi li usano invece per i viti quindi sicuramente la questione controversa è dibattuta e potreste trovarmi di fronte anche a dei rifiuti però a me il problema è che secondo me la visita al museo deve venire dopo cioè nell'instaurare un rapporto con le persone non deve essere il primo obiettivo quello di dire che portiamo al museo cioè il primo obiettivo deve essere parliamo di questo argomento grazie per lo meno i progetti io non so se voi avete presente le attività che sta facendo Brera l'accademia di Brera con gli immigrati ci sono due progetti Brera a Brera anch'io si chiamava il primo e il secondo che in realtà non è altro che la continuazione del primo si chiama Brera un'altra storia e riguarda il rapporto delle comunità immigrate con chiaramente la storia dell'arte occidentale nel caso di Brera ovviamente e quindi diciamo un dialogo tra due culture molto differenti allora lì l'approccio non è stato quello di dire vi portiamo al museo per farvi vedere queste cose l'approccio è stato parliamo di arte che cos'è l'arte che senso ha l'arte che scopo ha l'arte perché per esempio nelle culture africane l'arte non esiste cioè gli oggetti vengono prodotti perché servono perché hanno un utilizzo il concetto di oggetto in quanto tale nel senso di oggetto artistico di esperienza estetica non è contemplato quindi ovviamente si discute di cose differenti per cui l'approccio deve essere vi va di parlare di questo tema la visita al museo viene molto dopo e lo stesso succede con il museo scientifico con il museo di zoologia per esempio quando lei va in periferia dai vecchietti lei non dice venite che vi porto al museo a vedere una cosa bella perché cioè lei dice si è bello per me loro mi possono dire a me ecco bravo cioè non mi interessa no? allora lei va là e dice parliamo di scienza sapete che cos'è un microscopio a cosa serve un microscopio avete mai visto un vetrino al microscopio suscitare interesse o comunque discussione su un tema poi dopodiché si può dire vabbè vuoi venire a vedere le cose che ho al museo perché magari possiamo discutere ancora di questo di fronte a degli oggetti che stimolano la discussione no? no ma non ammaliante in senso diciamo dispregiativo nel senso ma nemmeno perché lo scopo poi non è veramente portarli al museo in quanto tale fine a se stesso non è quello cioè lo scopo è instaurare un dialogo e il museo come dicevamo ieri è un luogo dove si racconta una storia allora se una storia viene raccontata c'è chi la racconta e chi la ascolta qui il problema è che ci sono persone che le storie non le ascoltano proprio per mille motivi allora quello che uno dovrebbe fare è c'è un argomento sul quale ci sono storie interessanti vogliamo parlarne tu che ne pensi poi se vuoi sentire la storia come te la racconto io come te la racconta il mio paese la mia cultura vieni al museo te la faccio vedere al paese tuo come funziona cioè diventa un dialogo uno scambio però per tornare a quello che dicevo prima se l'approccio è vi vogliamo portare a vedere il museo è un approccio che rischia immediatamente il no nel senso no grazie non mi interessa quindi il museo deve venire deve fare un passo indietro e venire dopo dopo che si è instaurato un dialogo dopo che si è trovato un terreno comune su cui discutere allora poi si va anche al museo capito perché se no diventa un'imposizione per la serie mi vuoi portare a vedere qualcosa che a me non interessa allora prima di dire che non ti interessa parliamone di questa cosa poi semmai ti chiedo di venirla a vedere dovrebbe essere questo un po' il processo però mi sembra una situazione in cui effettivamente potrebbe funzionare certo c'è il solito punto interrogativo il museo è veramente intenzionato a instaurare rapporti con queste comunità grosso è perché e se no siamo al solito discorso che allora o ci sono persone di buona volontà all'interno del museo che lo fanno perché ci credono al di là di un effettivo coinvolgimento dell'istituzione e però qual è il rischio in questi casi che quando poi la mia collega e amica Elisabetta andrà in pensione al museo civico di zoologia tutto quello che lei ha fatto in questi ultimi sei anni con le periferie romane se ne andrà in pensione con lei se non ci sarà nel frattempo un effettivo sai non è facile non è che poi tutti abbiano questa vocazione ci dovrebbe essere il coinvolgimento profondo dell'istituzione che dice questa è una cosa che abbiamo assunto al nostro interno come una delle nostre attività e quindi la si continua se questo non succede rimane tutto sulle spalle della singola persona e della buona volontà dei singoli che va bene lo stesso però rischia di non essere poi sostenibile nel futuro d'altronde pur di non farle uno le cose le fa anche così cioè lei lo dice dice io qui quando vado in pensione non so che cosa succede di tutto questo cioè si esaurisce lei dice da ricercatrice si esauriscono intere linee di ricerca questa è la frase con cui lei commenta la sua prossima pensione e il fatto che probabilmente nessuno proseguirà in queste attività però è così cioè si esauriscono linee di ricerca se non c'è interesse in questo senso quindi dicevo il museo o meglio la direzione del museo la tua sensazione no no nel senso penso sia una cosa talmente aliena permette diciamo nuova difficile piena di complicazioni ancora per il territorio piena sicuramente ci succede il buon questo strato si tratta di stimolarlo di stimolarlo sì quindi l'automiglio mi sembri comunque possibilista cioè accetta non entrarei in una difficoltà ma prima no no cioè non c'è essere positiva no no sono possibilista però capisco anche le difficoltà che può avere state le buone intenzioni di appunto delle singole persone le difficoltà che può avere un'ente che insieme a tutto quello è chiamato anche ad occuparsi di anzi di di pubblici sì nel caso però delle comunità migranti se posso dire l'aspetto quantitativo aiuta nel senso che si tratta di comunità che sono numerose e lo saranno sempre di più quindi diciamo non hai il problema dei venti carcerati o dei sedici ragazzi delle minorine lì i numeri sono a tuo favore cioè nel provare a costare una strategia rivolta a comunità migranti il dato quantitativo è a vostro favore nel senso che uno dice non si sta parlando di nicchie si parla di tantissime persone si parla di seconde e terze generazioni di ragazzini che sono nati qui che comunque hanno questa alice che non è italiana diciamo e quindi sono portatori di valori anche diversi per cui hai il potenziale bacino ampio è questo è proprio questo che stavo pensando perché ci sono pensate su questa attra sulle seconde generazioni quindi sui ragazzini delle scuole canale estranieri sì perché magari è più facile lavorare infatti i bambini stranieri soprattutto come l'altro è un lavoro per gli ingegni di scatere conoscenze di valutare a me e poi non mi disposto sì ma il video è molto interessato però tutto quanto mi vuole devo lavorare non c'è tempo per te sì se non c'è una conoscenza della lingua la priorità è quella quindi che avessi bisogno o di trovare già un'associazione una scuola con il suo perché già facendo lavoro con la comunità o di dedicare giustissimo a quello se può esservi utile se può esservi utile anche perché non dipende da un certo punto però se le priorità cioè delle essenzione sono altre bisogna andare in contro se può esservi utile c'è un museo civico ha molto bene luna in provincia il Dremiso che lavora tantissimo con le comunità migrati con i centri territoriali permanenti e sono anni che loro fanno attività mediazione culturale museale con queste comunità e tra l'altro le persone che ci lavorano sono giovani sveglie simpatiche piene di entusiasmo e brave e loro pubblicano tra l'altro ogni tre anni un bilancio sociale del museo che è il museo civico di Montebelluna provincia di Tremiso da che ne so io è l'unico museo italiano che pubblica un bilancio sociale che riesce a non andare in deficit forse alla fine esatto che non va in deficit non solo perché in questo bilancio sociale racconta esattamente qual è la propria missione nei confronti del territorio spiega perché si aprono queste diverse fasce di pubblico perché sentono di avere questo tipo di missione lo scrivono nero spianco ci sono anche dei dati tra l'altro interessanti rispetto alla popolazione alle fasce di pubblico a cui si riferiscono loro con le loro attività e quello è un buon esempio anche di lavoro con comunità stragrande per cui se avete bisogno e voglia di mettervi in contatto lo fate lo vabbè posso farvi anche da tramite ma sono due la direttrice e la sua curatrice sono due persone appunto giovani bravi gamba e aperte a queste cose quindi secondo me sì è una buona idea la vita di lavorare questo strumento in quel contesto così come lo è questa idea di usarlo per un feedback dopo un evento o dopo un'attività quindi può essere sia a monte che a balle di un'attività che si fa sarei curiosa di vedere come va altre cose? a me per esempio interessa molto l'aspetto legato al museo pensando soprattutto alla composizione dei musei in Salento in cui non so è importante il ruolo dei musei della città mattanina della storia tutte le tradizioni popolari quindi l'idea che mi sono fatta dello story è quello che è appunto la vita della comunicazione della didattica per rappresentare uno strumento per visualizzare la cultura immateriale che si perde purtroppo per andare avanti quindi la storia e il video di verità una parte della collezione anche questa è un'ottima idea a dire effetti chi è una nuova c'è oggi una ragazza che raccontava una ragazza che proposa di tre case esattamente esattamente sì perché lei mi raccontava del fatto che quando poi si parla di tradizioni popolari di folklore di vecchie diciamo anche tradizioni credo sia la parola più adatta ci sono queste persone che hanno in realtà molta voglia di raccontare che sono sempre pronte a raccontare magari lei diceva con tempi che non sono compatibili con digital storytelling allora lì diventa un problema di riuscire a fare sintesi come la vecchietta del paese diciamo lei sostiene che quando cominciamo a parlare non riesci o che cominciano diciamo dalla ricetta di un gila e dai racconti dei nipoti per poi arrivare al solo quindi va bene magari ci può essere un problema in questo senso però sicuramente è un'ottima idea che il video stesso diventi un oggetto una parte della collezione perché racconta una tradizione orale certo che sì anche appunto come un'attività che veniva svolta la storia che è la morte cioè in questo senso penso a un progetto portato avanti dall'università di Modena sugli stretti della Granica e loro appunto nel tentativo di trasmettere poi ai ragazzi quella che è l'esperienza del distrettuale in un'attività da anni da anni dell'attività in Russia e usufruiscono a due di questi di questi metri per trasmettere poi ai giovani le conoscenze le conoscenze sicuramente un strumento che può essere usato in questo carino bella idea vai allora io pure sulla discorso museale quando riguarda la cosa che il festival sta cercando da anni adesso finalmente c'è una sede fisica di costruire un museo della memoria migrante sicuramente lo storytelling è uno strumento molto importante sia per diventare proprio parte del patrimonio museale perché poi ci sarà tutta una parte di museo virtuale perché con varie associazioni che lavorano su tutto il territorio non solo a Lampedusa si può anche rintracciare magari chi è sbarcato a Lampedusa e poi anche un'altra cosa che ci interessa molto è fare un lavoro un po' di cucitura con i lampelusani cioè far finalmente sentire a loro che questa cosa è loro perché non con tutti i lampelusani c'è e quindi quello può essere un grande strumento però per uscire un attimo dal museale che mi sembra l'ambito di tutti quanti a me è un'altra cosa che proprio per la natura della narrazione che mi piacerebbe molto usarlo nelle classi di italiano per stranieri perché quando insegni agli adulti l'autonarrazione e raccontare l'urgenza di raccontarsi è lo strumento fondamentale anche per insegnare una lingua di cui tu hai bisogno per stare su questo territorio quindi pensare in un laboratorio di storytelling in una classe di italiano vedo proprio un feedback molto immediato molto efficace esatto e poi c'è l'immagine che comunque è sempre una stimolata sicuramente esatto sì vero sì questo giustamente è quello che dicevo anche ieri in realtà lo storytelling è normale tra virgolette ma anche quello digitale è usato in vari campi della ricerca sociale adesso per voi è un po' nuovo usato le musee anche per altri paesi si usa già le musee in Italia no però è chiaro che al di là dell'ambito museale c'è tutto un mondo dove viene usato dove appunto le idee come in questa sono assolutamente praticabili quindi può essere può essere molto molto utile anche e poi perché insomma è coinvolgente soprattutto se sono persone giovani è anche stimolante che ma poi io adesso penso che nella nostra che io non parlo a campo però penso che tutte le formazioni in generale in cui lavoriamo in una versione degli adulti per cui non puoi stare in un banco o certo ci si dovrebbe stare mai si può essere uno strumento una tecnica nell'ambito di un percorso si ottima idea altre pensate geniali? no comunque pensate avendo fuori geniale no geniale no io l'abbiamo sempre venuta in mente proprio da un punto di vista dell'allestimento museale no specie in ambito storico-artistico secondo me è uno strumento molto potente anche c'è come il prodotto finito poi da utilizzare nell'allestimento del museo quindi magari la scolaresca piuttosto che la persona in cui tu fai il progetto gli affidi magari di raccontare il museo o le opere del museo e quindi questo può essere proprio diventa il video il pannello di da scalico dell'opera stessa tra l'altro essendo un video breve è molto semplice come fruzione quindi in un percorso di fruzione museale non c'è bisogno e tu coinvolgi quelle persone nella ricerca nello studio dell'opera nello studio del museo e alla fine hai anche allestito secondo me una bella una bella mostra un qualcosa di bello che ha dei ritorni sia come immagine che come facilità di ottenerlo magari beh perché comunque ognuno racconta la sua visione dell'opera del museo come lo vive non deve essere appunto un qualcosa di tecnico una descrizione deve essere sempre comunque utilizzando gli strumenti del digital story del museo e la descrizione del museo dell'opera dal proprio l'osiezione che ti farebbe un curatore che chiaramente a quel punto diventa una visione totalmente soggettiva e manca quella invece oggettiva per tra virgolette la ciappura canonica dell'archeologo dello storico dell'arte che conosce quell'oggetto e sa allora dovresti riuscire a bilanciare le due affine si diciamo magari sempre un qualcosa di ibrido non solo da una sensazione ma anche uno studio diciamo delle opere che poi porta a produrre quelle si perché in quel caso devi contemplare la necessità di tu fa intendere che quel tipo di allestimento è legato a quel tipo di percorso che quindi non stai diciamo leggendo per l'escalia fatta dal museologo ma anche alla persona che ha studiato e vissuto il museo per quel tipo di laboratorio di progetto che lo vede così e che in quel momento per quell'allestimento sarà così certo quindi tipo delle mostre temporali sì 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 io ho visto subito sotto quello con quest'ottica è molto interessata una sala ricca non una sala una sala insieme nel percorso museale non c'è di questo e il resto magari invece mi viene in mente proprio una mostra che ho fatto a Lulli in cui ormai la mission è quella di andare e di farlo diventare diciamo un museo più partecipativo fielli eccetera una mostra che è tutta la questione della razza cioè una questione artistica sulla cultura sull'arte afroamericana in cui al di là della mostra curata dai curatori dagli allestitori a impresa diretta c'era al centro di una sala una mini webcam in cui praticamente i visitatori erano invitati a rispondere digital storytelling in diretta senza le foto alla domanda che cos'è per te la razza e quindi in realtà la direzione del Brooklyn non si aspettava che davanti a una domanda così personale diciamo in America la questione cioè le persone al centro della sala raccontassero si raccontassero e mettessero in gioco la propria idea della razza eccetera eccetera invece poi alla fine nel corso di tutta la mostra hanno girato non so quanti mila filmini che sono tutti poi visibili tra l'altro sul sito sul youtube del Brooklyn Museum quindi loro cioè hanno fatto la mostra curata dai curatori però accompagnata dalla visione poi delle persone è un ottimo modo di bilanciare l'ordinario oggettivo o comunque specialistico diciamo con l'oggettivo con invece la sensazione le sensazioni del pubblico però è un modo di ascoltare i visitatori senza per questo anche un plenamento dei propri saperi specialistici perché lì poi ovviamente si si aprirebbe un altro problema insomma penso per esempio a questo teatro che c'è a Rotterdam in un quartiere ad alta densità di cittadini migranti che era perennemente vuoto qualche anno fa non fa è arrivata questa nuova direttrice che ha detto beh qui non ci viene nessuno ma noi perché esistiamo noi teniamo fuori dal comune per che cosa per svolgere un servizio alla cittadeganza quindi però se i cittadini non ci vengono qui c'è qualcosa che non fa e allora ha cominciato ad andare in giro con questo quartiere lei e i suoi giovani ricercatori e cercai di capire quale fosse il problema e il problema era voi rappresentate una cultura che non ci sartiene che non è la nostra che non ci interessa quindi per quale motivo dove sono venite al teatro vedete cose che non sono le nostre e che comunque non ci rappresentano e allora lei ha fatto una scelta drastica il 50% della programmazione del teatro è adesso nelle mani della comunità che decide che tipo di performance devono essere presentate nel teatro in ogni stagione teatrale chiaramente lei dice anche sono a compartimenti stagni nel senso che la volta in cui c'è il giovane scrittore drammaturgo turco il teatro è pieno soltanto di turchi gli olandesi non ci vanno così come il giorno che invece è dedicato alla programmazione classica di tipo europeo ci sono soltanto gli olandesi e non ci sono i turchi piuttosto che i magrebini quindi in realtà non c'è mai una comunione diciamo né scambio da questo punto di vista però lei sostiene che questo possa forse un giorno avvenire perché lei dice il problema è che comunque a teatro vengono soprattutto persone di una certa età in quel caso sono persone che hanno un problema di lingua per cui c'è anche la barriera linguistica che impedisce la comunicazione lei dice con le nuove generazioni forse riusciremo a ibridare le culture in qualche maniera e comunque anche se rimane così questi sono cittadini tanto quanto gli altri quindi hanno diritto ad avere spettacoli che siano di loro interesse che li rappresentino e che a loro faccia piacere vedere ovviamente questa esperienza ha suscitato un vespaio ve lo potete immaginare nella città nel senso che adesso il teatro è sempre pieno gli altri teatri della città sono in crisi quando vanno da lei a dire ma come mai tu è sempre pieno lei dice ma io ho provato a fare questa diciamo a mettere in atto questa strategia volete provarci e loro è no perché sennò poi gli olandesi non ci vengono più quindi comunque rimane questa forte barriera culturale di istituzioni che sono frutto di quella cultura e che tutto sommato vogliono rimanere frutto di quella cultura e questo vale per i musei vale per i teatri vale per tutte le istituzioni culturali il tema è estremamente delicato per cui non si può passare da un estremo all'altro secondo me bisogna trovare delle forme di compromesso in cui piano piano magari si capisca che ci sono benefici che possono valere per gli uni e per gli altri che ci sono forme di come dire ibridazione ma non solo anche di riconoscimento di altre culture che possono essere utili per tutti e qui anche qui appunto al di là delle culture dei migranti c'è la solita distinzione tra il sapere specialistico e i poveri mortali e anche qui c'è una forte resistenza rispetto all'intervento dei poveri mortali nei templi del sapere specialistico per cui questa cosa che diceva lui e ho anche questa appunto delle persone che registrano la propria idea di razza è fantastico perché tu lì hai un doppio binario da una parte hai il sapere specialistico dell'antropologo del museologo che ti dice che cos'è la razza secondo i sacri crismi e dall'altra hai le risposte delle persone che ti dicono quello che per loro significa la parola razza riuscire a tenerle insieme trovo che sia il compromesso migliore perché sono tutte e due punti di vista che devono essere tenuti insieme anche se poi è ovvio che l'istituzione museale in quanto tale è nata grazie al sapere specialistico quindi non puoi nemmeno completamente disperderlo o far finta che non ci sia o superarlo totalmente forse dipende poi anche dai contesti voi altre idee diciamo sulando un po' dall'ambito culturale stretto volevo sapere se questo strumento viene utilizzato anche che ne so nelle case famiglia nei centri antiviolenza se è utile e quali ricadute insomma può avere allora guarda un'esperienza che so per certo che è stata studiata e valutata è una esperienza del sistema sanitario inglese che ha usato il digital storytelling per valutare il grado di soddisfazione degli utenti mettiamola così ma in realtà era più profondo perché soprattutto tendeva ad analizzare il grado di coinvolgimento degli stranieri rispetto al sistema sanitario inglese e quello è uno studio che è stato fatto in maniera completa diciamo dall'inizio dalla pianificazione fino alla valutazione mentre invece ci sono esperienze spot su aspetti diciamo sociali come quelli che citavi tu che io sappia però non c'è un percorso valutativo completo che sia stato fatto dopodiché magari invece è stato fatto più di recente ma in ogni caso tutto quello che viene realizzato a livello di mondo anglosassone è online quindi sicuramente ricerche di questo genere le trovate in Italia penso che siamo abbastanza indietro sull'uso viene usato a livello pedagogico viene usato in un paio di facoltà di pedagogia lo utilizzano come strumento danno ampio spazio allo strumento come appunto strumento pedagogico però in termini di ricerca sociale non credo che siamo allo stesso livello di altri paesi certo assolutamente infatti per questo viene usato lì con questa finalità esattamente perché ripeto rispetto all'intervista non so con chi ne parlavo ieri ma rispetto all'intervista qui si va molto più in profondità e l'intervista spesso ha come connotazione negativa il fatto che l'intervistato tende a dare la risposta che lui pensa che l'intervistatore si aspetti c'è un po' questa tendenza a voler far contento l'intervistatore dando quindi la risposta che ci si aspetta da lui mentre invece con questa tecnica della narrazione digitale o meno ma insomma in generale dello storytelling vai effettivamente molto più in profondità rispetto a quelle che sono le reali esigenze e i reali pensieri della persona che sta raccontando la propria storia quindi è sicuramente più attendibile ovviamente ti richiede più tempo nel discorso che facevamo prima quindi non è così immediato però è più attendibile in questo senso è uno strumento di ricerca sociale Voi? Non lo so io l'ho pensato un po' perché lei ha parlato anche di questa signora che è a capo del museo di zoologia che nel momento in cui andrà in pensione andrà in pensione tutto il suo lavoro cioè per sviluppare continuità pensavo appunto che questo strumento possa entrare nelle università perché quanti di noi ci lamentiamo del fatto che l'università è poco pratica quindi io conosco tantissimi storici dell'arte che sono esplosive persone che hanno tante idee però non hanno la possibilità di mettere in pratica nulla quindi io userei questo progetto pilota o in fase di sperimentazione includendo degli studenti che studino storia dell'arte o che di qualsiasi facoltà in realtà in questo caso diciamo legato al museo e magari se ci fosse disponibilità da parte dei museologi o comunque di chi è a capo del museo di lasciare carta libera a questi ragazzi facendoli cogliere delle idee dalle interviste o dallo storytelling perché non è un'intervista dallo storytelling e facendoli cambiare proprio l'aspetto che ha il museo cioè facendoli cambiare non dico l'esposizione ma lasciandoli libero spazio perché comunque a livello generazionale è chiaro che chi è a capo del museo può avere un'impostazione molto più conservatrice rispetto a un giovane che ne ha una totalmente diversa oppure la userei in una facoltà come sociologia o come psicologia per fare psicoterapia cioè potrebbe essere molto interessante utilizzato come strumento di studio proprio sì pensavo oppure c'è un'altra cosa che farei sì esistono le residenze artistiche che sono dei luoghi dove tu convivi per dei giorni con delle persone che possono venire da diverse estrazioni studio e utilizzarlo cioè proprio come strumento anche di condivisione delle proprie storie delle proprie realtà e poi magari fare proprio di questo un blog non lo so anche un diario di bordo cioè un qualsiasi cosa cioè potrebbe essere uno strumento molto più trasversale no? come dicevamo del resto dall'inizio credo che sia in altri contesti sì ma io ho avuto l'occasione di conoscere tanti storici dell'arte le vedo persone molto frustrate perché non hanno la possibilità in una città come Roma del resto di avere spazio alle proprie idee di lasciarsi comunque cioè mi dicevano è difficile che ti facciano fare un tirocinio se te lo fanno fare non hai comunque parola ovviamente cioè ti limiti semplicemente a che ne so a presentare oppure fare il cicerone del museo magari o presentare una piccola esposizione però non hanno mai veramente uno spazio reale di proposta di qualcosa insomma cioè come è che indirizzare questo strumento di agarazzia no 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 potrebbe essere però all'interno di un percorso diversitario perché è chiaro che tu cioè è difficile che ci sia però magari questo modo li formi e fai capire che esistono tanti altri modi di usare l'arte cioè che può essere veramente una luminanza per certi contesti non so perché pensavo un'altra cosa molto più cioè un pochino traendo ispirazione della ragazza che ora non ricordo il nome vabbè ok e dicevo Ginebra o Ginebra ah non lo so non so parlava comunque del fatto degli emigrati di questo genere cioè non lo so magari insinuarsi in un gruppo cercare comunque sì di creare un tessuto di tranquillità cioè entrarci in contatto poi portarli in un museo far sì che loro scelgano un'opera dell'esposizione e chiedere loro di spiegarla al loro modo tramite lo storytelling e fare in modo che loro si facciano portavoci quindi mettere questa installazione e far spiegare il loro punto di vista che è quello di un'altra cultura non prettamente italiana a una persona quindi farli diventare quasi presentatori della mediatori sì volevo fare una piccola premessa dicendo che sono venuta pensando che fosse un corso diciamo molto più legato diciamo al marketing storytelling cioè molto più legato diciamo proprio alle aspetti promozionali e pubblicitari quindi è stata una piacevole scoperta vedere invece quanto vada di più in profondità siccome da lì ero partita diciamo avevo già in mente di seguire un percorso di questo tipo pensavo di utilizzare questo strumento per aggiungere diciamo delle cose che già sono state fatte con un festival con cui lavoro dove sì è un festival che si occupa di bande musicali quindi sono stati già fatti dei percorsi con le scuole principalmente in cui si chiede di raccontare l'esperienza che i ragazzi hanno avuto con le bande cioè di recuperare un po' un lavoro appunto di recupero della memoria popolare e folcloristica legata a questo fenomeno e già è stato chiesto ai ragazzi diciamo di andare alla ricerca di fotografie di oggetti di qualcosa che possa raccontare queste forme di memoria quindi pensavo che potrebbe essere uno strumento interessante per scendere diciamo ancora più in profondità anche perché come è un utilissimo strumento poi pure di indagine per i ragazzi stessi rispetto a tutta una serie di temi e in più mi sembrava interessante il discorso che uscito ieri rispetto diciamo all'aspetto intergenerazionale e volevo approfittare per fare una domanda diciamo se c'è un'età consigliata di partenza per questi laboratori perché per esempio immaginavo le scuole medie non so se le scuole medie potrebbero essere adatte ad accogliere diciamo un tipo di laboratorio del genere con queste colleghe con cui abbiamo fatto il progetto dei musei il progetto appunto sul digital storytelling nei musei abbiamo a febbraio abbiamo mandato un'altra application per fare un progetto simile nelle scuole elementari io non sono per niente convinta che possa funzionare insieme a noi come partner ci sono delle scuole gli insegnanti dicono che secondo loro funziona benissimo ma probabilmente appunto è un mio a questo punto limite nel pensare che bisogna essere più grandi per poterlo utilizzare sta di fatto che loro si sono gettate a capofitto le insegnanti di queste scuole elementari in questa idea di utilizzare il digital storytelling come strumento per i loro alunni quindi le medie a questo punto siamo già esatto in un mondo tendenzialmente io avrei detto a partire dalle scuole medie nel senso che comunque sì li vedo dei ragazzini di quell'età fare un lavoro del genere più piccoli sono un po' perplessa però appunto mi sono arresa di fronte alle maestre ovviamente perché non è non è una mia competenza però sì l'abbiamo messo in cantiere vediamo che succederà ma in effetti ci abbiamo pensato abbiamo detto ma perché solo con gli adulti proviamo e quindi abbiamo fatto la domanda per un comenius tra l'altro sempre all'interno del programma di apprendimento permanente vedremo però sì ti direi che sulle scuole medie non penso ci sia problemi rispetto allo strumento la possibilità di far interagire i ragazzi con le persone più anziane cioè in che modo potrebbe essere sviluppato diciamo dovrebbe esserci una collaborazione fin dall'inizio entrambi dovrebbero partecipare diciamo a tutti questi laboratori e giochi oppure dovrebbero essere due percorsi separati in cui uno si occupa potrebbe essere nel senso le strade sono diverse possibili oppure c'è sempre diverse soggettive da un certo punto di vista ti posso anche qui fare l'esempio concreto del lavoro fatto col museo lì si è partiti da una scuola media per lavorare con loro sul discorso dell'uso degli strumenti scientifici e non parlo del laboratorio del digital storytelling con gli anziani deve ancora iniziare nell'ambito di questo progetto quindi sto parlando invece di attività fatte negli scorsi anni sull'uso degli strumenti scientifici i microscopi per esempio lì si è partiti dalla scuola si è partiti dalla scuola lavorando con i ragazzi una volta che i ragazzi avevano fatto il loro percorso e soprattutto che si erano diciamo autoselezionati quelli che poi veramente si erano appassionati alla cosa e volevano provare a comunicarla ad altri allora con quei ragazzi poi si è andati al centro anziani e lì chiaramente il discorso del dialogo intergenerazionale ha funzionato nel senso che il ragazzo spiegava all'anziano come usare la centrifuga tipo quelle di CSI per il DNA insomma queste cose qui piuttosto che il microscopio tutti questi strumenti per me assolutamente astrusi e quindi anch'io dovevo fare giustamente il mio laboratorio di formazione e lì comunque ha funzionato cioè ragazzi delle medie con persone del centro anziani perché poi i ragazzi hanno un modo che non è impositivo nel senso che non sono andati lì dicendo ti spiego come funziona ma erano lì che dicevano ma se vuoi ti faccio vedere quello che ho imparato io e quindi l'anziano non si sentiva trattato diciamo sminuito dal fatto di non sapere di non conoscere mentre invece con una persona adulta spesso gli anziani hanno questa resistenza si vergognano di dire non capisco non lo so non sono capace con i ragazzi invece questa cosa non si è creata forse perché l'atteggiamento dei ragazzi poi non è appunto quello di una persona adulta che dice vieni ti spiego io come si fa era molto più dialogica la cosa ed è stato molto bello quindi l'idea adesso con lo storytelling è di fare lo stesso nello specifico i ragazzi però interverranno nella fase di montaggio perché abbiamo pensato che se li mettiamo insieme da subito c'è il rischio che poi la storia diciamo siccome poi non puoi pretendere che lo stesso ragazzo faccia la propria storia e lavori alla storia di un'altra persona allora diventa poi c'è il rischio poi di contaminare le due storie invece abbiamo pensato facciamo fare il laboratorio di narrazione agli anziani nel momento in cui c'è da montare la storia quindi selezionare le foto lo possono fare gli anziani ma la scannerizzazione delle foto in bianco e nero ovviamente magari le facciamo fare ai ragazzi insieme alle persone del museo e il montaggio delle storie anche quindi e sono gli stessi ragazzi che hanno partecipato cioè la stessa scuola diciamo sperabilmente i ragazzi sono andati avanti nel frattempo e non sono rimasti ancora lì anche se chiaramente in queste situazioni in queste scuole c'è appunto la mia amica Elisabetta che mi dice io sono sei anni che vedo sempre gli stessi ragazzi sempre alle medie diciamo perché sono situazioni un po' disperate per cui succede anche di questo però insomma si spera che in questo caso siano andati avanti ecco ma comunque funziona in questo modo funziona poi si può provare anche in altri cioè nulla vieta di sperimentare forme diverse io ti dico quella che è l'esperienza diciamo diretta che ho avuto ma allora diciamo che io avevo una conoscenza si metto un po' indietro diciamo un po' superficiale dello storytelling perché vengo da un contesto di comunicazione sul web e quindi è stata un'esperienza molto educativa nel senso che l'aspetto indubbiamente che mi ha colpito di più è la partecipazione proprio in termini emotivi che è una caratteristica diciamo presente nella comunicazione su internet di social network però in questo momento mi è difficile riuscire a come dire a trovare una una strada per poterlo applicare perché è vero sì che anche su internet si creano delle comunità però mi sembra che l'aspetto proprio caratterizzante sia la condivisione reale in una situazione e quindi cioè in realtà sui social non so facebook a me viene in mente facebook che è un luogo dove la gente condivide se stesso però in qualche modo immediato perché se c'è una persona che caratterialmente è ritrosa decide di condividere quello che vuole in una situazione del genere si può fare la stessa operazione ma è molto più complicato perché cioè hai degli sì sì e quindi è interessante cioè una cosa diventa interessante sì se uno riesce a trovare una comunità disposta a farlo però già se sei disposto vuol dire che probabilmente anche l'aspetto più stimolante in una situazione del genere è riuscire a trarre delle contributi autobiografici anche da chi non è predisposto alla comunicazione cioè io almeno questi sono gli aspetti che mi hanno colpito di più e quindi diciamo che adesso come adesso sia perché lavoro in internet e poi tra l'altro uso lo strumento per un altro ambito che è quello del turismo che anche lì diventa complicato anche lì applicarlo perché cosa come fai cioè forse bisognerebbe sì trovare un'applicazione cioè studiarlo un attimo rifletterci trovare il modo di potresti come come vedi la Puglia sì sì certo però è sì e poi diventa un'intervista oppure sempre una fondità raccontando esperienze personali rispetto al tema Puglia c'è uno spot sì però la conoscata non dovrebbe rivedere una ragazza perché molte delle pubblicità siano basate comunque anche sullo strumento esatto sì 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 però come selezioni di campione selezioni persone che sai essere innamorate della Puglia allora se tu fai una selezione diciamo seria per pensare non dovrebbero che ti dicono però perché quello deve diventare uno strumento di marchio assolutamente no no ma infatti le indicazioni del struttore si indicherebbe come strumento di promozione c'era stretto diciamo dell'esplumento di promozione però e poi no perde eh sì perde perché insomma poi c'è tutto il contesto relazionale che mi sembra che sia molto forte quella la potenza della dello storytelling eh sì quindi non so ci rifletterò poi se dovessi se mai riuscirò a trovare un'applicazione diciamo che sì vi farò sapere l'unico modo per cui forse potrebbe funzionare su internet però si perderebbe comunque l'aspetto di relazione tra il gruppo diciamo perché poi alla fine immagino che anche nel gruppo si crei ovviamente un certo tipo di rapporto come utilizzare le piattaforme internet come strumento per formare i formatori parto da un aneddoto personale qualche mese fa con Antonio abbiamo frequentato online un corso da un sito cursera.org che sostanzialmente riunisce diverse università che offrono corsi universitari online e gratuitamente si riceve un attestato ultimamente sono entrate anche delle università italiane ma per lo più sono straniere questo qui è l'università del Nici che non mi ricordo comunque è molto è targato per venire incontro diciamo all'uso diciamo degli utenti si basa ovviamente sul concetto di learning però tu che fai segui delle lezioni che sono dei video hai dei compiti fai ogni settimana dei compiti segui un percorso di qualche settimana e poi alla fine è un attestato e ce ne sono praticamente di tutte le materie moltissimi sono partiti questi corsi soprattutto nell'ambito dell'ingegneria dell'informatica eccetera però sono moltissime anche le materie sociali artistiche ultimamente abbiamo trovato anche di archeologia su questa cosa e insomma l'unico modo per cui una cosa del genere potrebbe funzionare è creare insomma una piattaforma del genere un corso online di digital storytelling in cui io metto il video cioè quello che abbiamo fatto noi in questi due giorni si fa in un percorso di qualche settimana però uno si perde l'ambito relazionale e due vai a trovare gente che è interessata a questa cosa quindi veramente per formare i formatori però ovviamente non c'è la strategia che si può essere di marketing o promozionale dietro non lo so un'attività formativa quindi non un'attività di marketing vabbè ma come tutti gli strumenti poi può essere piegato a usi diversi quello di cui abbiamo parlato in questi giorni è l'uso per il quale è nato ed è stato pensato dopodiché siccome siamo tutti molto creativi poi alla fine è chiaro che lo stesso strumento può essere piegato a fini diversi ma diventa un'altra cosa si snatura all'obiettivo principale direi quindi cambia un pochettino altre idee suggestioni pensieri in libertà che vi siano venuti in mente quanto dovrebbe durare un laboratorio di questo eh ieri no 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 sto interrotto perché in effetti è una domanda che attorno anche questa è stata un una ricorrenza diciamo quanto dovrebbe durare bella domanda nel senso che dipende dipende da dalle persone con cui lavori essenzialmente perché perché eh se parliamo del corso per formare i formatori che io ho fatto appunto nell'ambito di quell'altro progetto europeo è durato dieci giorni andavamo venti persone con un formatore ogni tre di noi che ci dava una mano ci spiegava soprattutto sulla parte tecnica quindi però eravamo lì da mane a sera come si dice eh chiusi dentro in questa associazione turca bellissima peraltro tutto un ambiente di tappeti c'era tè ogni tavolino c'era il tè tappeti dappertutto un ambiente ovattato fantastico bellissimo però veramente ci chiudevano lì la mattina e ci liberavano la sera quindi insomma alla fine abbiamo prodotto le nostre storie ma perché veramente non avremmo potuto fare altro nemmeno volendo e quindi è stato un corso intensivo diciamo ora queste attività invece del museo civico di zoologia e degli altri musei che lavorano al progetto europeo dureranno dai sei agli otto mesi perché però perché parliamo di pubblici svantaggiati socialmente quindi soprattutto di detenuti giovani o adulti quindi ovviamente in carcere abbiamo difficoltà ad andare tutti i giorni per più di due ore non ci si va tutti i giorni e non ci si va per più di due ore in ogni caso ogni volta e allora chiaramente il tempo si dilata pure gli anziani del centro anziani non puoi pensare di coinvolgerli su base giornaliera perché poi comunque c'è anche proprio un limite di attenzione poi ieri insomma alcuni di voi erano provati dallo scavo diciamo introspettivo dopo gli esercizi cioè in ogni caso insomma lavorare su se stessi è faticoso quindi non puoi neanche chiedere alle persone appunto nel caso nostro in Turchia chiusi dentro vabbè c'era era un accordo che avevamo fatto lo sapevamo ma eravamo veramente stanchi alla fine soprattutto alla fine della prima fase appunto quella di analisi su se stessi tu arrivavi la sera che eri stanco quindi anche poi la parte formativa sugli strumenti digitali eravamo persone mediamente intelligenti non è che abbiamo fatto chissà quale sforzo per riuscire a imparare ma comunque era una cosa nuova alla fine eravamo stanchi per cui devi calcolare tutto questo non puoi pensare di cavartela in con i ragazzi che magari si stancano di meno e lo strumento digitale ovviamente lo maneggiano molto meglio di noi forse fai prima però forse è più difficile la parte 1 la parte di indagine scavo su se stessi lì forse ti vuole un po' più di tempo con i ragazzi con gli adolescenti immagino non lo so perché non ho mai lavorato con adolescenti insomma dipende con pubblici occasionali non lo puoi fare cioè lo devi fare con un pubblico con un gruppo che sia selezionato costituito e deciso a monte insomma e quindi lì il tempo dipende dalla disponibilità che ti danno dalla disponibilità che hai tu direi è interessante avere un formatore all'interno proprio dei siti scolastici che c'è la possibilità ai ragazzi di esprimersi soprattutto gli adolescenti con il breve del suo alcoolismo tutta questa serie di questo è un aspetto diciamo socio-pedagogico che trovo molto interessante sì che si avvicina anche un po' a quello che diceva lei cioè diventa uno strumento sia di espressione di sé di ricerca sociale di pedagogia al tempo stesso quindi sì nelle scuole sarebbe se capirai cioè voglio dire come stanno le scuole adesso vagli anche a dire di fare il laboratorio digital storytelling di avere il formatore pronto a formare i ragazzi cioè ti ridono dietro quindi comunque è chiaro che è una questione di priorità poi di scelte come al solito allora per ricapitolare io direi che ci deve essere allora ci sono un sacco di buone idee qua e spero veramente che qualcuna possa diventare concreta se non tutte quindi se avete la possibilità di portarle avanti di farle diventare cioè di passare dall'idea al progetto e poi magari dal progetto alla realizzazione sarebbe sicuramente molto bello per arricchire anche questo panorama sull'uso del digital storytelling sono a disposizione se avete voglia di parlarne anche in futuro però al di là di questo deve essere molto chiaro l'obiettivo per cui lo fate perché vi rendete conto che a seconda dell'obiettivo cambia completamente il tipo di attività questo in fondo è solo uno strumento che può essere piegato a diversi obiettivi però l'obiettivo quindi è fondamentale deve essere chiaro l'obiettivo e i destinatari e poi c'è il famoso aspetto della ricaduta sui destinatari e della ricaduta sull'istituzione lente che lo organizza e che lo gestisce questo anche è un aspetto che va tenuto in considerazione che poi sia zero perché lente lo organizza per non sentire la persona che continuamente bussa la porta e dice facciamo un laboratorio in giudizia solitaria e alla fine ti dicono sì vabbè fallo e quindi poi la ricaduta è zero sull'organizzazione ed è invece molta sulla persona questo anche può succedere però comunque ecco va tenuto in considerazione anche questo ricaduta sull'ente ricaduta sui partecipanti e il prodotto finale alla fine diventa quasi se volete accessorio pur essendo molto carino e però implica una comunicazione poi una disseminazione una diffusione nel senso nasce per quello quindi poi è un peccato se rimane invece chiuso all'interno di una piccola cerchia credo che il valore sia soprattutto per quel che riguarda il prodotto finale il valore è la diffusione di questo di questo video a questo proposito tu avevi una sorta di un altro utilizzo giusto una sorta di curriculum vite tieni ti do il microfono dovrebbe essere dovrebbe essere accenduto no perché non è partito il mio spin saver che suona forse non è collegato aspetta che succede? e noi ecco lo noi rincorriamo messo a fare mi chiedevo se fossero già stati realizzati dei progetti sul digital storytelling nell'ambito museale o comunque culturale legati all'accessibilità per le disabilità sensoriali cioè se sono stati messi a punto dei progetti di questo tipo o se può essere utile il digital storytelling per favorire la fruzione anche da parte di un pubblico di questo tipo cioè tipo sono muti? sì o i dati di motori non lo so non ne ho idea non lo so non sono a conoscenza di progetti specifici il che però non significa che non esista no? perché figurati però il problema è può essere utile per facilitare l'accesso sì se la ricaduta sull'istituzione è tale da far sì che poi eventuali come dire elementi elementi di valutazione vengano presi in considerazione quindi sì senza altro vai sicuramente sì dopodiché sulla fruizione ecco per esempio sul disabile non vedente o sul disabile sordo-muto uno strumento del genere cioè che non lo so perché non sono un'esperta di disabilità fisica però mi domando questo è uno strumento che usa video audio allora poi magari la ricaduta è sugli altri cioè no no sì certo forse non udente usando il linguaggio dei segni sì ma il non vedente alla fine ha soltanto l'aspetto sì sì ok ok quindi tu dici un racconto per un non vedente fatto allora non lo so perché quel poco che so di didattica speciale per non vedenti non si basa tanto sull'uso delle parole quanto sull'uso del tatto come sapete dei percorsi tattili quindi dovrebbe essere comunque combinato a un percorso tattile perché la percezione passa per il tatto questa è una cosa che diciamo so e quindi dovrebbe essere a quel punto unito al tatto e sicuramente potrebbe funzionare io sto lavorando adesso al riallestimento del museo Omero di Ancona che è il museo per non vedenti il museo nazionale per non vedenti e in effetti io mi occupo dei testi scritti che poi loro tradurranno in braille quindi non mi occupo della parte specifica per i non vedenti però sento diciamo le colleghe che invece lavorano con i non vedenti in maniera specifica dire che stanno progettando appunto dei percorsi multisensoriali in cui chiaramente al tatto uniscono le stimolazioni sonore quindi anche un racconto sicuramente potrebbe essere inserito e a quel punto diventa un racconto che può essere fatto tu dici da chiunque purché con una magari un linguaggio diverso da un linguaggio canonico sì senz'altro per i non udenti in realtà il video viene già utilizzato proprio perché il non vedente legge il linguaggio dei segni e quindi ci sono già musei dove ci sono traduzioni video diciamo per per non udenti per esempio le audioguide per non udenti in realtà sono dei video in cui come? certo certo beh e penso quindi che sì potrebbe essere uno strumento da utilizzare potresti tranquillamente certo con gli utilizzi giusti diciamo con gli strumenti giusti sì allora dicevo lei oggi mi parlava di un suo utilizzo personale diciamo del digital storytelling cioè che poi alla fine è semplice è intuitivo però magari uno non ci riflette adesso non so rivedendolo forse non rispetta tutte le caratteristiche formali dello storytelling visto che io non sapevo cos'era quando l'ho fatto però proprio ieri mi è venuta in mente che un mesetto fa dovevo fare un'application per uno stage si chiedeva proprio un video di massimo tre secondi in cui tu raccontavi tre minuti no tre minuti in cui raccontare cosa avresti fatto se tu avessi ottenuto quello stage che tra l'altro nessuno ti spiegava cosa dovevi fare in quello stage cioè era una cosa abbastanza surreale per cui io ho pensato ok dico mi presento monto delle foto che raccontano chi sono e vediamo come va quindi il risultato potrebbe essere un po' simile che devo fare noi ignoriamo e quindi si sente malissimo però io ve lo faccio vedere ah tra l'altro avevamo tolto l'audio perché quindi ricominciamo la gara andiamo indietro rimettiamo l'audio ti sente no? no no ma prima è partito un casino clamoroso qui è tutto al massimo è perché usciva da qua però a questo? si si prova a mettere questo a dove? qui le cuffie ok riproviamo vedi ah io però qua ho usato anche montare delle frasi su cos'hai dato? ho scritto sulle foto beh anche questa è la cosa che si fa ho scritto sulle foto ho messo una musica sotto per cui non è un parlato continuo e invece cosa meno legittima da quello che hai detto ho tagliato ho letto la cosa poi non mi piaceva l'ho tagliata l'ho riaggiustata l'ho riregistrata vada no vabbè vi mando il link ve lo guardate a casa con la ragazza parla si ma quindi fondamentalmente tu racconti chi sei? racconto ho visto ho visto ho visto ho visto la scuola di lingua con un'associazione Erasmus oppure ho dovuto fare culture diverse perché ho parlato della mia esperienza e della mia società certo quindi non mi usa ma non sconosce ma sono qua vale oltre questo esempio che è un reino che è in la mia sempre un momento che è più che è 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 E non voglio essere la condizion, ci ha mostrato, non è tutto il vero, perché a istituzione non è il vero, 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 non è il vero. Come andava? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Ah, non è? La peggio è qua. Siamo escusami, perché non ho mai dettagli, ma adesso è in Vegas. comunque questo è un altro uso del nostro strumento a me è sembrata strana ma mi hanno detto che nel mondo anglosassone si usa parecchio questa cosa la domanda che era la fisica qui viene un documento dai numerosi diciamo che però abbiamo 5 scritto tra alcuni specifici del settore culturale pur avendo poi divagato sì sicuramente quello che noi abbiamo tralasciato per forza di cose in questi due giorni è l'aspetto puramente tecnico io qua ovviamente immagino che voi siate bravissimi a usare questi strumenti qui voi avete esperienze pregresse nell'uso di a parte lei che già mi dicevi che usi Sony Vegas quindi sa di che cosa sto parlando voi avete già usato strumenti di questo genere tu sì vabbè cose simili va bene quindi un minimo di competenza informatica invece questi pure che montano smontano tagliano ok quindi diciamo per voi non sarebbe un problema giusto l'uso di questo tipo di strumenti qui anche no siete perfettamente dotte essendo un giovanile avete imparato avete imparato appunto brave no però questo invece è un aspetto da tenere presente ovviamente nel caso di predisposizione di attività anche in termini di costi nel senso che è vero che alcuni di questi programmi sono grattati con versioni trial gratuite Sony Vegas l'aveva però oggi non l'ho trovata non ce l'abbiamo più però ce ne sono altri che avevo trovato prima adesso vediamo se funziona ecco quello lì per esempio Animoto avevo trovato delle versioni gratuite che durano magari 60 giorni prima di dover obbligatoriamente comprarli allora per esempio il museo di zoologia sta lavorando su una di queste versioni trial hanno una lira anche con i fondi europei comunque gli viene diciamo un coccolone a dover comprare i programmi e quindi usano le versioni trial ci sono anche programmi open per cui insomma diciamo che a questo si può ovviare il problema è anche l'uso dei computer perché ovviamente queste persone brava, gli anziani il computer non ce l'hanno i detenuti nemmeno quindi ovviamente è l'istituzione che in questo caso si deve fare carico di comprare 8-10 a seconda delle persone che ha nel laboratorio di comprarne 8-10 in modo da poter poi svolgere l'attività perché se no sei da capo a 12 quindi questo fa la differenza anche cioè l'avere a che fare con persone che hanno magari il proprio se lo portano e ci possono poi lavorare anche da casa la sera e si divertono a montare, dismontare, tagliare e sistemare oppure avere a che fare con persone che invece non ce l'hanno non lo usano e quindi possono lavorarci solo in quel periodo in quel momento in cui voi glielo mettete a disposizione questa è una variabile che fa la differenza lo stesso per quel che riguarda la registrazione perché la registrazione andrebbe fatta con dei microfoni semi professionali diciamo che anche qui non hanno dei costi eccessivi ma sui 100 euro, sugli 80-100 euro si trovano però per garantire diciamo perché poi la cosa terribile che succede quando invece te la fai a casa la registrazione è che poi la traccia audio è di una qualità allucinante, pessima e ti rovina veramente tutto diciamo e poi pulirla una volta che è registrata è comunque più complicato invece è molto meglio se riesci a registrarla in maniera come dire, umana semi professionale quindi anche questo ha dei costi per cui questo aspetto tecnico diciamo va tenuto in considerazione sia per la possibilità o meno che queste persone hanno di usare questi apparecchi la conoscenza di come usarli e anche eventualmente i costi per l'organizzazione che sta dietro il laboratorio quindi tenetelo a mente magari poi non è un problema però potrebbe esserlo sulle persone che dovrebbero ci vorrebbe sempre comunque uno esperto di informatica perché poi come dicevamo prima la tecnologia a volte c'è nemica per cui poi su Mac non gira perché poi c'è anche il problema di trasformare questi video in un formato che sia poi condivisibile da tutti, visibile ovunque eccetera quindi vi consiglio caldamente da avere l'uomo dei computer diciamo a disposizione o la donna dei computer non abbiamo diciamo preclusioni però che ci sia nell'equip un tecnico questo aiuta perché altrimenti diventa un incubo sul numero di persone dell'equip che debbano seguire il laboratorio anche qui è un po' la stessa risposta che davo a te sulla durata cioè dipende da quante persone avete che comunque secondo me non dovrebbe mai superare la decina perché se no l'avete visto insomma anche in fondo oggi da un certo punto di vista si lavora meglio rispetto a ieri che eravamo di più avremmo dovuto dividerci in gruppetti per fare un lavoro no però essendo poi io da sola diventava difficile lavorare con gruppi diversi ma direi che una decina di persone è un numero giusto su quante persone puoi coinvolgere come formatori dipende da come sono queste dieci persone nel senso che se sono abili e arruolate al laboratorio dello storytelling va bene anche una persona sola no? se è gente completamente digiuna o persone come dicevamo ieri anche con qualche difficoltà nell'aprirsi nel parlare nell'essere coinvolti allora forse vi serve qualcuno in più quindi questi sono tutti elementi che fanno parte della progettazione iniziale e che ovviamente dipendono a loro volta dall'obiettivo dell'attività questo non mi stancherò mai di ripeterlo perché se no si fa un minestrone però invece tutto deve discendere da lì poi direi che insomma sperimentando anche facendo errori poi le cose si fanno insomma si perfezionano quindi sicuramente il primo corso magari non sarà perfetto il secondo lo sarà quindi da questo punto di vista direi senza problemi non so se ci sono altre cose di cui volete parlare o volete approfondire io sono a disposizione anche a partire da lunedì diciamo sono a disposizione se avete invece vi volevo dire una cosa a parte il fatto che se poi Chiara se vi va di condividere le vostre mail io vi farei partecipi di come va il progetto europeo e quindi degli sviluppi futuri per cui vi metterei nella mailing list per avere informazioni volevo invece dirvi un'altra cosa allora noi abbiamo in corso un altro progetto europeo sulla mediazione museale che si intitola Museum Mediators per l'appunto che ha previsto una fase di ricerca su che cosa vuol dire mediazione museale nei paesi coinvolti dal progetto museale no no proprio museale che poi alla fine appunto che cos'è esiste non esiste e abbiamo quindi svolto una fase di ricerca che sta per finire e l'anno prossimo ci sarà un corso di formazione per mediatori museali che sarà diciamo lo stesso in tutti i paesi europei con poi ovviamente dei moduli specifici per ognuno dei paesi perché è chiaro che diciamo noi rispetto alla Finlandia qualche differenza ce l'abbiamo e quindi non possiamo fare lo stesso identico corso di mediazione museale allora quello che vi posso dire è che il corso si terrà a Roma ci saranno cinque moduli dovrebbe essere il lunedì e è interamente gratuito per chi partecipa perché ovviamente lo facciamo con i fondi dell'Unione Europea questi cinque lunedì prevedono la partecipazione di 20 persone al massimo ogni lunedì noi metteremo una sorta di bando diciamo perché ovviamente 20 persone sono poche quindi chi prima arriva meglio alloggia per persone non residenti a Roma abbiamo la possibilità di coprire un numero piccolo di spese di viaggio per chi appunto viene da fuori non so ancora dirvi esattamente quanti posti quanti viaggi potremmo coprire dobbiamo fare un calcolo preciso del budget cioè il discorso è noi avevamo un budget per pagare una sede dove svolgere il corso ovviamente la sede stiamo cercando di averla gratis da uno dei musei romani diciamo della rete dei musei del comune di Roma perché è ridicolo spendere migliaia di euro per pagare una sede è meglio pagarli spenderli per far venire gente da fuori a sentire il corso insomma quindi l'idea è quella di risparmiare questi soldi per l'affitto della sede e spenderli invece per far viaggiare qualcuno che da fuori possa partecipare a uno a due a tre a quattro a cinque di queste giornate insomma a seconda allora anche qui noi metteremo sul sito un avviso se siete se qualcuno di voi è interessato o conoscete qualcuno che possa essere interessato io poi ve lo vi mando comunque comunicazione le date in realtà sono già decise subito dopo l'epifania fino ai primi di febbraio i cinque lunedì gennaio e febbraio chiaramente siamo in attesa di una risposta per la sede e anche poi appunto di fare un calcolo preciso per capire quanti viaggi da fuori possiamo eventualmente coprire la formazione è gratuita però chiaramente i viaggi fino a un certo punto cioè solo quelli che riusciamo a coprire però se vi interessasse l'argomento me lo fate sapere in qualche modo vediamo di anche lì poi i materiali comunque della formazione saranno a disposizione online sul sito però poi un conto è partecipare un conto è leggere dei materiali quindi se vi va vi tengo in mailing list anche su questo una volta che Chiara mi dà i vostri indirizzi ok va bene direi che ci siamo sì forse questa è una bella idea in effetti così direi una panoramica del certo giusto niente noi ci vediamo venerdì e sabato prossimo che sono 10 e 11 maggio all'officina Cantelmo il modulo di marketing culturale quindi chi si aspettava più marketing sarà soddisfatto con avremmo i ragazzi di BAM che sono una cooperativa di Bologna Davide Baruzzi e Rosanna Spanò e l'11 mattina avremmo ospite il responsabile della comunicazione digitale del Marti di Rovereto Luca Melchionna che ci parlerà proprio della strategia di comunicazione in particolare digitale del Mart poi il 3 invece sempre l'officina Cantelmo venerdì terzo modulo officina Cantelmo venerdì e sabato 17 e 18 maggio gli orari sono sempre 9 e 13 e 14 e 19 14 e 19 per tutti i prossimi moduli 15 e 19 sempre 16 ore a modulo l'unica differenza è che facciamo la pausa di 2 ore e finiamo alle 7 e poi comunque possiamo anche decidere invece di fare la pausa di un'ora e finiamo alle 6 dipende da noi però le ore sono quelle e parleremo di audience development con sempre un'altra ospite da Ecom una collega della professoressa da Milano Francesca Guida poi abbiamo il quarto modulo parleremo di fundraising per la cultura a San Cesario questa volta il 24 25 maggio sempre venerdì e sabato 14 ore per questo modulo ve lo anticipo già però metteremo comunicazione sul sito già da lunedì martedì un attimo ci hanno richiesto verrà Massimo Coenca Cagli il direttore scientifico della scuola di fundraising di Roma e loro ci hanno chiesto in particolare di raccogliere già dei progetti per organizzazioni culturali eventi di progetto che necessiti di un piano di fundraising legato alla cultura che noi poi ci prenderemo l'incarico di raccogliere invieremo alla scuola di Roma loro sceglieranno alcuni progetti 3, 4, 5 su cui poi si lavorerà in classe quindi tutti i laboratori pratici in classe verteranno su questi progetti reali e quindi chi parteciperà all'organizzazione che sarà scelta avrà poi comunque un piano di fundraising già delle linee che può utilizzare quindi quindi vi invito già magari a pensarci poi l'ultimo modulo 31 maggio e 1 giugno Galatina sempre qui apriamo e chiudiamo comunicazione integra apriamo e chiudiamo chiudiamo prima o poi io pensavo fino alla 2018 faremo comunicazione integrata e social media strategi sempre con i ragazzi di BAM Davide e Baruto Guzzi e Rosanna Spanò e niente sei rilasciato qualche attestato sì possiamo rilasciare un attestato che però non ha nessun valore formale legale ma può attestare la vostra presenza qui con gli argomenti i docenti però di certo vabbè è lasciata un'ampia scelta a noi dall'arti perché comunque non siamo non è un ente accreditato è un tipo di percorso diverso però sì la nostra idea era di lasciare poi tutto l'arco della vita chiara questo è il mondo poi la somma con la somma poi magari alla fine devono ottenere il mondo adesso lavoriamo tutto quello che dobbiamo fare e quindi un po' allora vi invieremo tutto il materiale il calendario e infine anche un piccolo questionario sulla valutazione di queste due giornate saremmo grati insomma se lo gesti è ritornare tra i diversi di questo del genere anche magari i contatti perché poi alla fine noi ci siamo scambiati comunque tutti quanti se i contatti e le notizie erano qui anche io ma li rendiamo visibili in meglio ci sono posizioni non ci sono no magari magari non ci sono c'è il dramatico per lì che ci sono se sono d'accordo creare un errore grazie 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 a voi scusate le mie pregare e le mie pregare e le mie pregare è stato un tema è stato un piacere grazie 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 grazie